Eder, Mech, Pallister. La loro fiducia nell'operato della procura è alta. Nelle ultime settimane, si è tornato a parlare insistentemente delle indagini per omicidio dopo un relativo periodo di silenzio intorno all'omicidio di Via del Ciclamino. Avvenuto la sera del 3 ottobre, il 4 ottobre era poi stato ritrovato il corpo di Pierina, 78 anni, tranquilla pensionata e fedele testimone di Genova, anche ieri mattina, i legali dei figli di Pierina avranno ribadito il loro profondo sconcerto nei confronti di certe informazioni prive di fondamento che hanno come obiettivo quello di attirare la morbosità, dell'opinione pubblica su particolari rilevanti per gli inquirenti. Gli investigatori del resto si sono ritrovati a dover verificare anche tutta una serie di particolari circa la vita, a volte anche sentimentale, dei quattro vicini di casa. Tutti i sottoposti al prelievo del DNA, Maguela Bianchi e il fratello Loris, Valeria Bartolucci e il marito Luis da Silva hanno tutti acconsentito al prelievo, presto la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Grazie a tutti!